La lotta per le investiture Lo sconto tra il papato e l'impero, che era stato innescato dai provvedimenti di Ottone I, prese vigore alla fine dell'undicesimo secolo. Infatti la chiesa era sempre più mal vista dai fedeli perché gli ecclesiastici sembravano pensare più alla politica, all'economia che non alla religione e alla fede. Dall'altra parte era necessario che la chiesa tornasse ad avere un ruolo centrale nell'elezione del papa. Quindi nel 1059 i vescovi si riuniscono nella basilica di San Giovanni in Laterano e decidono di abolire il privilegio di Ottone. Con questa abolizione viene stabilito che il papa deve essere eletto solo dai cardinali e che la nomina dei vescovi spetta solo al papa e quindi non più all'imperatore. A questo punto il privilegio di Ottone, che stabiliva una serie di privilegi appunto che aspettavano solo all'imperatore, è stato annullato. Gregorio VII è papa dal 1073 al 1085 e decide di ribadire con il dictatus pape del 1075 la superiorità della chiesa rispetto all'imperatore. Infatti con questo provvedimento del dictatus pape il papa Gregorio VII decide di dire che tutti dovevano obbedire al pontefice e tutti erano tenuti a rispettare ciò che lui diceva in quanto proprio capo della religione. Siccome l'imperatore faceva parte della comunità dei fedeli anche l'imperatore era tenuto ad obbedire al papa. Solo al papa con il dictatus pape appunto spettava la nomina di vescovi e di abati e solo lui poteva consacrare l'imperatore e quindi poteva anche decidere di deporlo, quindi togliergli il potere da imperatore, oppure scomunicarlo, quindi estrometterlo dalla comunità dei fedeli. La scomunica avrebbe portato uno, avrebbe portato un imperatore a non essere più ascoltato e rispettato dai suoi sudditi e questo sicuramente era una cosa gravissima. Gregorio VII viene ignorato dall'imperatore Enrico IV che decide di continuare a comportarsi come se nulla fosse, quindi Enrico IV continua regolarmente a nominare vescovi conti proprio come facevano i suoi predecessori fin dai tempi di Ottone I. Per dimostrare la superiorità sul papa, nel 1076 decide di convocare tutti i vescovi che gli erano fedeli a Worms e dichiara di fatto il pontefice decaduto. Quindi raduna i fedeli e dice il papa, raduna i vescovi e dice il papa non è più in carica, il papa non è più importante. Gregorio VII a questo punto decide di non lasciarsi intimidire dal quanto fatto dall'imperatore e controvate scomunicando l'imperatore. A questo punto tutti i feudatari tedeschi che non erano dalla parte dell'imperatore avrebbero l'opportunità di deporre l'imperatore e nominarne uno nuovo. Enrico IV si accorge che effettivamente questa mossa del papa è una mossa definitiva che rischia di togliergli il potere per sempre.